Ciao a tutti, in questo nuovo video faremo una cosa che si chiama arte ottica. Allora, direi subito di iniziare a fare un cerchio, spostare e iniziare a fare una cosa un po' ondulata dall'alto, una cosa un altro po' ondulata dall'altro lato, una cosa ancora ondulata dall'altra parte e una cosa ancora così. Poi rifacciamo così, poi rifacciamo così e poi rifacciamo così e così via. Poi vi consiglio in matita, per poi non capisciare il disegno, appena trovo una matita, ok? Facciamo dei puntini nelle parti che coloreremo. Praticamente in queste parti faremo dei disegni. Per esempio, completamente a caso, io vi dico, si può fare così, guardate, così, poi così, magari colorarne uno ogni tanto, guardate. Poi fare tanti puntini, poi per esempio, non so, fare delle cose strane così, fare così, si chiama arte ottica questo. Poi facciamo così, poi facciamo così, facciamo così, oh no, ho infrante i puntini, ops, non so più come fare. Facciamo la stella, facciamo la stella, facciamo l'altra stella, facciamo un'altra stella. Allora, alla fine è uno scarabocchio, ok? Se fatto uno scarabocchio avrete già finito, ma non uno scarabocchio nel senso che tu lo mezzi pagina, completamente a caso, così, e non finisco niente. Allora, magari ne coloro un po', guardate. Cambia già tutto. Poi facciamo così. Ancora un pochino. E cinciulam e bim bim bim. Dopo facciamo nonna, lo so, cerchi. Un po' li facciamo neri. Dopo qui faccio delle linee, così. E così via. E ovviamente ho fatto le altre quattro robe, mentre ho interrotto un attimo il video. Ecco. Ora inizio la parte con le tempere. Allora, mettiamo un po' di tempere, non facciamo un pasticcio. Ecco qui. E iniziamo a spennellare un po'. Allora, piano piano. Specialmente nei contorni. Alla fine vi farò vedere una cosa molto divertente con il pennello. Che ho scoperto io. Ma alla fine però. Allora. Ora, piano piano. Mi sono dimenticato di cancellare i puntini. Oh no, come farò mai? Ho rovinato il disegno. Non è affatto vero. Potete cancellarli come non cancellarli. Io preferivo cancellarli, ma non l'ho fatto. Quindi è lo stesso. Allora, se sentite ogni tanto un... Piii! E' perché ho dei camerini che cantano. Perciò, io ve l'avevo detto. Se avete domande. Ora cambio colore. Aspettate perché c'è l'acqua. Non vorrei bagnare troppo il foglio. E ora iniziamo a fare un po' più blu chiaro. Guardate. Piano piano. E' identico. Ah no. Per fortuna. Non è identico. Allora. Questa che lo faccio. E ora. Spalmiamo l'altro tipo di blu. Che tipo di blu vi piace di più? Perché a me piace di più questo qui. Scrivetelo nei commenti. Perché è l'unico modo che me lo potete dire. Allora. Piano piano. Petturiamo questa parte qui. Ben piano piano. E ricordo che si chiama arte ottica. Allora. Piano piano. Andiamo avanti. Ok. Ok. Do ok. Piano piano. Piano pianino. Rii. Notiamo un po' di blu. Ok. State attenti a non metterli nel troppo. Perché se no. Ci impiega centomila anni luce. A asciugarsi. E non sapete quanti pastizzi abbia fatto. E quanti pastizzi. E quanti altri ancora pastizzi. Per colpa del troppo colore. Cos'è che ho fatto anche adesso. Yeee. Io. Ve l'ho detto. State attenti. Ovviamente io ci casco come un ratto. Nelle trappole. Che oggi ho messo anche le trappole. Allora. Piano piano. Piano piano. Invece che ci casco il troppo. Nelle trappole ci sono caduto io. Piano piano. Piano piano. Piano piano. Andiamo un po' su. Sul blu vecchio. Ok. Ribagniamo il pennello. Ribagniamo il pennello. Mescoliamo. C'è un'acqua tutta blu. Mescoliamo. 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 Ora prendo un faciletto per asciugare il pennello. Lo ribagno un po' perché è sporco. Ok. Ora. Io direi di passare qui. Fare un po' il contrario. Un pezzettino blu chiaro. E un altro pezzettino blu scuro. Una goccetta. Perché se no. Il casino più casinato. Più un casinato della terra. Piano piano. E ora. Facciamo cosi. La scrivania. Povera scrivania. Sopravvivi. Piano piano. Quella, quella goccetta lì era perfetta. Va a finire. Adesso c'è il mare. Mare blu. Mare blu. Per chi conosce quella canzone bene. Sanno lo stesso. Piano piano piano. Sì perché c'è una canzone che si chiama proprio neanche il testo mare blu. È proprio il nome mare blu. Qui quindi è easy da trovare. Allora. Ora rifacciamo la stessa cosa. Mescoliamo il pennello nella zuppa lavica del diavolo. Triforcoat. Asciughiamo il pennello. Il pennello. Nuovo termine. Pennello. È la penna di Lello il porcello. Allora. La penna di Lello il porcello. Il pennello. Allora. Tac. And tac. And tac. Chiudiamo il pennarello. Amo. La tempera. C'è anche scritto qui. Tempera. Ma se io leggessi qui. Tempera. Si è visto per mezzo mille secondo. Però si è visto. Temperiamo. Tempera. Povero scrivenito. Piengerò per te. Allora. In questi casi. Tipo ora. Andate a lasciare tutto il colore qua. Prendetene un po'. E andate a spostare il centro. Almeno dopo invece di prendere altro colore. Metterelo qua. Ne risparmiamo. E facciamo anche di più. Allora facciamo così. Ne prendiamo un pochino. E non tutto dalla stessa parte. Dopo ne metteremo anche altri colori. Sempre la stessa cosa. Andiamo nel miscuglio magico del... Non so chi. Del mago panzone. Il rosso stavolta. Il rosso come una rosa. Allora. Adesso interrompo un secondo video. E dopo andremo avanti. Perché. Sapete. Sono un po' noiosa queste parti. E sicuramente voi sto dicendo. E qual è la cosa divertente? Ecco questa qui praticamente. Se mettete il mozzo... Il pennello. Amo. Il pennello così. Si fa il mozzo. Il mozzo. Stiamo pulendo. Poi abbiamo già finito. E questa qua è la parte 1. Nella prossima parte. Qua non sarà già asciugato tutto. E lo perfezioneremo un po'. Ci metteremo dei puntini bianchi. Delle cose. Ciao. Ciao.